Marina Bettarini, 28 anni, di Santo Maso di Maiano, insegnante di equitazione. Innanzitutto, quando nasce in te la passione per i cavalli? Io ho iniziato a cavalcare a 5 anni, grazie al fatto che ho una passione di famiglia. Ho sempre cavalcato a livello amatoriale, più per divertirmi, per stare con gli amici, perché comunque la vita di maneggio per i ragazzi è una cosa molto particolare, coinvolgente, divertente. Dopodiché, all'età di 21 anni, ho intrapreso la carriera agonistica e l'ho fatto diventare un lavoro. Quindi ho fatto tutti i corsi necessari per diventare un'insegnante. Anche grazie al mio fidanzato, Marco Dalla Venezia, che si occupa dell'addestramento dei cavalli, abbiamo costruito insieme questa attività. Grazie anche alla mia famiglia, che è la proprietaria del centro in cui lavoriamo, che è l'Antico Maso. Io mi occupo della scuola, mentre Marco si occupa dell'addestramento dei cavalli. Oggi a farci compagnia c'è proprio un cavallo, come possiamo descriverlo? Che cavallo è? Lei è una quarter, nata nel 2004, un quarter horse, che sono i cavalli usati principalmente per l'equitazione americana. Si chiama Doctor Smart Lass, per gli amici lady. È un cavallo all-around, vale a dire fa un po' tutte le discipline, ma la sua disciplina principale è il reining. Il Friuli Venezia Giulia ha i massimi livelli per quanto concerne la monta americana. Siete appena tornati da Cervia, raggiungendo proprio traguardi importanti. Quali sono le principali difficoltà nell'affrontare una vita di questo tipo? Allora, visto che hai citato Cervia, intanto diciamo cosa abbiamo vinto come regione. Nuovamente, come anche l'anno scorso, abbiamo vinto la Coppa delle Regioni per la fita trecante. La cosa bella, appunto, è che io qua sono a testimoniare non solo il mio talento, ma un talento friulano, che non tutti conoscono, che è quello appunto per l'equitazione americana, in particolar modo per le performance, perché noi abbiamo raggiunto ormai i livelli di eccellenza come regione e tutte le scuole friulane sono molto forti e veniamo presi da esempio da tutto il resto dell'Italia. Le difficoltà principali di fare questo tipo di vita, senza dubbio, sono le difficoltà diciamo economiche, col fatto che comunque sono tempi di crisi e quindi le famiglie fanno difficoltà a spendere per uno sport così impegnativo anche a livello economico. Però quello che fa l'equitazione americana e che ci permette di avere tanti ragazzi è di permetterli di gareggiare con i cavalli della scuola e quindi di contenere un po' i costi. Insomma, non obblighiamo i ragazzi a comprarsi il cavallo al primo anno di gare. Allora, c'è da dire che stiamo improvvisando questa intervista con la cavalla, dunque potrebbe succedere di tutto. È molto tranquilla, però c'è un cavallino dietro che è molto attratto da lei perché è molto bella. Allora, proseguiamo raccontando la tua storia. A un certo punto della tua vita decidi di non continuare a studiare all'università, svolgevi il corso di ingegneria, ma decidi di portare avanti questa strada, nonostante tutte le difficoltà sicuramente presumibili che potevi riscontrare. Esatto, ma perché comunque chi ha passione per i cavalli lo sa, è quasi una malattia. Cioè ti entrano dentro e poi è impossibile farne a meno. E di conseguenza siamo tutti un po' come si dice prigionieri del sogno, di fare una vita un po' come nei ranch americani e di vivere a contatto con la natura e anche magari appunto di creare un centro come il nostro che è anche un allevamento dove si fa scuola, pensione per i cavalli e addestramento. Si portano avanti i prodotti dell'allevamento e il sogno appunto è che i prodotti dell'allevamento poi possano ottenere dei grandi risultati. Ci sono tanti giovani che vanno all'estero. Nel vostro settore un percorso negli Stati Uniti ad esempio è consigliabile? Sì, sicuramente. C'è la fuga dei cervelli o in questo caso delle mani, anche per quanto riguarda il nostro ambiente, soprattutto quelli che fanno reni, gli addestratori più forti, finiscono con l'andare negli Stati Uniti, nei grandi centri, perché comunque qui in Italia si fa difficoltà ad emergere soprattutto a lavorare perché appunto quelli che fanno puramente addestramento sono costretti ad andare fuori perché non ci sono abbastanza soldi o fondi o comunque proprietari che puntano su questo tipo di monta, almeno per il momento. Le scuole diciamo che se la cavano meglio, però sono tanti i nostri colleghi che vanno all'estero, soprattutto negli Stati Uniti. Raccontaci una tua giornata tipo, come si svolge, ti svegli e... Allora io mi sveglio, mi occupo dei miei cavalli da scuola, quelli che sono assegnati a me, quindi monto, li muovo durante la mattina, magari ho qualche lezione con qualche adulto perché i ragazzi sono a scuola, mi occupo dell'alimentazione anche dei cavalli del maneggio e nel pomeriggio si svolgono invece le lezioni. Noi lavoriamo qua praticamente 24 ore su 24, si parte dall'estate di mattina fino a arrivare alle 9, 9 e mezza di sera. D'estate ovviamente le attività sono molto più frenetiche, ci sono anche i centri vacanze, abbiamo i bambini che stanno qua tutto il giorno, quindi l'estate è più impegnativa. Adesso siamo in un periodo diciamo di relativo relax, perché abbiamo finito appunto con Cervi e gli appuntamenti agonistici di quest'anno e quindi adesso ci sono alcuni cavalli che sono in meritato riposo e ci si prepara per la stagione 2014. La tua è una scelta di vita che comprende sicuramente l'amore per gli animali, ma non solo, perché fai formazione e lavori a stretto contatto con i bambini. Esatto, sì, la mia specialità sono i bimbi, quindi dalla messa in sella, poi ovviamente portiamo anche ragazze a livello agonistico, però più avanti si va più magari mi faccio aiutare anche da Marco, che si occupa dell'addestramento oppure da professionisti internazionali che danno un maggior input di crescita ai ragazzi e anche a me. Però diciamo la mia passione principale sono i bimbi piccoli e quindi proprio iniziare a partire dai 5 anni, primi contatti col cavallo e poi portarli avanti. Adesso ho da 7 anni che svolgo questo lavoro, quindi mi sento un po' vecchia perché i miei allievi più datati cominciano a compiere 18 anni e quindi insomma si cresce assieme, diciamo che questo è l'obiettivo. Quali sono i prossimi traguardi, i prossimi obiettivi da raggiungere? Allora, sicuramente continueremo a portare avanti gli allievi, adesso anche per quanto riguarda l'associazione italiana Quarter Horse, che ha un progetto molto bello per i giovani, in quanto gli fa fare dei corsi, degli stage ulteriori di perfezionamento e li porta anche a formare poi una selezione che va a fare i mondiali e gli europei, un anno sì e un anno no. Nel 2014 ci saranno i mondiali, quindi speriamo che qualche ragazzo friulano e magari dell'antico Maso venga preso in considerazione per questo gruppo e gli obiettivi del centro sono di continuare comunque con i campionati scuola e però fare più tappe anche a livello nazionale appunto per far vedere quanto bravi sono i ragazzi friulani e in particolar modo quelli del mio centro. Cosa consiglieresti a un ragazzo che vuole intraprendere la tua medesima strada? Allora, per quanto riguarda il lavoro di insegnante, diciamo che innanzitutto deve essere una vocazione, cioè non basta essere buoni cavalieri, anzi a volte è meglio essere cavalieri diciamo buoni ma non eccelsi perché per trasmettere a chi inizia una cosa che a noi viene troppo facile poi siamo in difficoltà, quindi non per forza dovete essere degli ottimi cavalieri, però dovete avere una buonissima base tecnica e una grande vocazione all'insegnamento perché quando si lavora soprattutto con gli animali non è solo colpa del ragazzo se le cose non funzionano ma bisogna lavorare sul binomio, sull'unione e sul fatto anche che imparino ad amare questo animale e non solo usarlo come un mezzo per ottenere qualcosa e di conseguenza bisogna essere proprio preparati a non perdere la pazienza, andare con la calma e essere preparati a gestire ogni tipo di cavaliere perché ci sono cavalieri che riescono ad apprendere subito, cavalieri che sono un po' bloccati dalla paura e insomma bisogna essere preparati a tutto. Interagisce intanto, si vuole parlare anche lei, cos'è per te l'entusiasmo in questo settore? L'entusiasmo è crederci, crederci anche quando le cose non funzionano, anche quando sembra che tutto intorno a noi sia contro, l'entusiasmo è anche solo prendere il cavallo preferito, andarsi a fare una passeggiata da soli, rimettere in ordine le idee, insomma è ricordarsi perché si è iniziato e quindi non solo nei momenti della vittoria o della gioia ci vuole l'entusiasmo, ma soprattutto quando le cose non stanno funzionando per ricominciare da zero o per continuare, per rialzarsi se qualcosa è andato male. Grazie a Marina Bettarini e alla nostra super guest star La Cavalla che ci ha fatto compagnia, Lady, e grazie anche ad Annalisa Anastasi. Continuate a seguire le nostre storie di entusiasmo sul blog di Annalisa e Benedetta Cosmi, piattaforma di entusiasmo, per raccontarci anche le vostre. Alla prossima!